Per il terzo anno consecutivo a Ioppolo Giancaxio è tappa della campagna nazionale di Lega Ambiente intitolata Voler Bene all'Italia e venerdì prossimo 2 giugno ritorna questo appuntamento Mangia e Passia. Sì, diciamo che quest'anno la campagna nazionale di Lega Ambiente Voler Bene all'Italia, che è la festa dei piccoli comuni italiani, arriva alla sua quattordicesima edizione e vuole celebrare sostanzialmente l'80% del territorio italiano perché l'80% del territorio italiano è costituito da piccoli comuni, comuni sotto i 5.000 abitanti, comuni che sono ricchi di tradizione, ricchi di cultura, ma che purtroppo senza attenzioni particolari e dal punto di vista legislativo e anche dal punto di vista strutturale ed anche economico rischiano di scomparire. Sono comunità che vanno assolutamente sostenute proprio per quello che sono in grado di conservare e tramandare. Noi per il terzo anno consecutivo abbiamo scelto, diciamo, di far rappresentare in provincia di Agrigento questi piccoli comuni dal piccolo comune di Ioppolo Giancaxio facendo un piccolo festival del cibo di strada che giunge appunto alla sua terza edizione e che speriamo sia fortunata come le prime. Il 2 giugno, a partire dalle ore 17, sulla piazza principale di Ioppolo Giancaxio si troveranno ovviamente tantissimi operatori del cibo di strada che proporranno le classiche specialità siciliane dello street food con in testa soprattutto le panelle, Upanica Meusa o Cuggeruni. Quest'anno ci sarà la novità del cosiddetto muffuletto di Lazia che sarà una sorpresa. Il tutto sarà ovviamente arricchito dalle bancarelle degli artisti, diciamo, per hobby, degli artigiani per hobby e ovviamente ci saranno anche tanti momenti di spettacolo. Si inizierà a partire dalle 17 con l'esibizione di un piccolo gruppo di folcloristico ci sarà anche una scuola di danza, ci saranno i piccoli musicisti dell'associazione Area Studio che è un'associazione, una scuola di musica agrigentina. Il clou della serata sarà rappresentato dallo spettacolo di danza aerea che verrà fatto da un artista di strada del Catanese e poi dall'esibizione del gruppo musicale dei Ciaudà fanno musica etnica, sono anche loro catanesi ed è il gruppo che solitamente fa da apri strada nei concerti di Manuciao. Quindi noi vi aspettiamo tutti quanti insieme all'amministrazione comunale di Ioppolo e ai cittadini di Ioppolo vi aspettiamo per ospitarvi il 2 giugno a Ioppolo Giancaxio per la terza edizione di Mangio e Passia.